Ciao ragazze, oggi è arrivato il pacco di campagna 10 e anche qualcosa della nuova quindi mi sbrigo velocemente perché poco fa ho registrato e boh, si è staccato tutto ok, prima vi mostro il cartello siamo arrivati a un catalogo di campagna 11 poi, credo, 7 cataloghi della campagna 12 che sono belle, cioè praticamente ci sono le tinte, quelle nuove che già spopolano un pochettino su web poi, vabbè, un volantino per noi, sempre le ratacorridge catalogo casa anteprima di campagna 12 offerte per noi ancora offerte per noi fattura e ultimo catalogo della 12 ok, vi mostro subito i prodotti della 10 allora mi è arrivato un bagnoschino della Senses questo crema ad ozio praticamente che stava 2,95 per 500 ml poi mi è arrivato allora un colorante per capelli che stava a 6,50 cioè praticamente due coloranti 13 euro però ne è arrivato uno il prossimo l'altro arriva nell'altro pacco questo appunto 6,50 ed è il ramo intenso poi mi è arrivato una lozione struccante per viso e occhi che stava a 2,50 poi mi è arrivato un set di pur blanca praticamente profumo crema corpo talco profumato per il corpo e d'orolone che stavano a 17,95 poi mi è arrivato un set di pur blanca praticamente profumo spray corpo d'orolone e crema corpo questo set stava a 13,50 poi mi sono arrivati 4 detergenti intimi che stavano 2 a 5 euro praticamente 2,59 poi mi sono arrivati 3 d'orolone della linea on duty praticamente li ho presi io stavano a 1,50 ho detto ma va riproviamoli perché comunque già li avevo provati solo questo che il fresh non avevo mai provato questo è il maxi questo è il mineral poi mi sono arrivati 2 balsami questi al miele mirtillo rosso stavano 2 a 4,90 poi mi è arrivato un anziero per le punte secche dell'ishine che stava a 4,50 poi mi è arrivato un set di questi rare pearl e rare amethyst e praticamente tutti e tre venivano 32 euro e infatti in combo davano anche questo nuovo fondotinta che uscì in campagna 13 credo poi mi è arrivato un toglie smalto trattante un anello che stava a 6,95 praticamente una specie di anello che sta tipo tutto unico forse una cosa del genere poi un fondotinta 3 in 1 medium beige colorazione poi un mascara di color trend che stava quindi il mascara stava a 3,95 quello è buonissimo sembra un simile al super shock poi mi è arrivato un eyeliner di color trend colorazione black questa di qua molto carina poi praticamente mi sono arrivati tre mascara della linea mark praticamente c'è il multiplayer che è il più bello il big daring e poi quello classico il big false rush poi mi sono arrivati due rossetti uno è il pot se vi può interessare perché lo devo vendere e i tetapion tetapion movie che è una matita che stava a 6,50 e poi una matita blonde ora vi faccio vedere quelli della campagna 9 ok ora vediamo i prodotti della 9 allora mi è arrivato un set della linea whole life praticamente questo sia per donna che per uomo veniva 25 euro questo set e in abbinato io ho voluto prendere alla cliente la sciarpa che è sempre della linea whole life poi mi sono arrivati tre bagno doccia da 500 ml praticamente fragoline panna giglio bianco e vaniglio orchidea poi mi è arrivato l'avondream profumo poi due profumi per uomo x iris flash e quake che stavano a 5,95 l'uno poi mi è arrivato il profumo attraction per lei poi un'avondream profumo anche per lei e poi due pur blanca per lei un sacco di profumi in questo periodo che stavano a 3,90 poi mi sono arrivati due acque profumate una pur blanca e una lit black dress poi mi è arrivato un olio per i capelli della linea 7 in 1 poi mi sono arrivati quattro mascarate della linea mark che ora ve ne mostro uno perché uno l'ho preso anch'io praticamente si presenta così praticamente è tipo come il mega effect ho cresso che c'ha tipo sto pennellino così infatti le mie ciglia sono fatte con quello non siete bene comunque comunque vi posso assicurare che fa delle belle ciglia poi mi è arrivata una matita della linea true round true nevi blu poi mi è arrivata una collana che è quella con l'iniziale praticamente iniziale ok comunque molto molto dolce carina non so quanto stava 6,95 poi della linea poi della linea praticamente mi è arrivato un emolliente labbra che è nella colorazione honey tint poi mi è arrivato dell'aventure extreme questo waterproof mascara e poi un eyeliner della linea lux ora vi faccio vedere le piccole anteprime che ho preso allora ho preso reggisena praticamente la parola con mia madre solo che leggo questo non mi piace e me l'ha regalata a me praticamente uno dello sport che è esso in campagna 12 che è questo di qua è molto molto carino misura 52-54 è molto molto carino però non cioè non sorregge quindi non ha niente però è carino cioè vi devo dire la verità i rosolini li copre bene e poi mi sono preso un profumo si chiama i mari elixir praticamente non so se lo prenderò oppure no sono un pochettino indecisa perché la profumazione non mi rispecchia tanto cioè l'ho dorato di fuori tutto qui poi mi è arrivato il nuovo mascara mark che però io non prenderò big style volume mascara cioè ve lo mostro di fuori quindi se vi può interessare fatemelo sapere black blackest black praticamente questo con il suo pennellino cioè pennellino si che voi potete fare tantissimi look con questo set praticamente è il set che trovate in campagna 11 nella prima taglia e poi come ultimo prodotto mi sono voluto prendere questo di nutra effect che è praticamente l'olio miracoloso diciamo che è olio detergente leggero che va a struccare il viso così diciamo un semplice olio che va a struccare il viso e idrata la pelle e niente ragazzi questi sono i prodotti che ho preso e niente vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video sono stata brevissima perché la memoria del cellulare ha problemi cioè nel senso che appena faccio dei lunghi video subito si ritrae quindi vi mando un grosso bacio e al prossimo video vi aspetto nella mia pagina comunque la sapete qua in caso ve la linko sotto e niente ciao